Al via la nuova pavimentazione nel centro di Castione. Da questo lunedì infatti la centralissima via Vittorio Emanuele subirà un intervento di restyling. Viene rimosso il vecchio pavè in Porfido e sostituito da un nuovo tipo di asfalto. L'ultima manutenzione integrale della pavimentazione è stata fatta nel 1992. Pertanto avevamo una situazione che con il discorso di traffico di mezzi pesanti i cubetti di Porfido non resistono a questa sollecitazione da parte dei mezzi. Li porto di lavori di circa 400 mila euro più gli anni della sicurezza e dureranno come ho detto fino a circa la metà di luglio. Il programma dei lavori è suddiviso in vari step per non congestionare eccessivamente il traffico. Per la via o della stagione turistica l'intervento dovrebbe essere concluso. Si è stavolato il senso unico a salire verso Bratto d'Orga e successivamente quelli che scendono devono inviare Gallia col diritto di precedenza sulla via San Bernardo. Si prosegue su diversi settori. Si andrà avanti praticamente in una maniera che i settori vengono finiti da entrambi i lati. A metà di luglio si valuterà se completare definitivamente il discorso della strada o altrimenti si aprirà la strada e l'ultimo pezzo in fondo a gestione si finirà a settembre.